È la Casa Museo di Ivan Bruschi ad ospitare la presentazione del libro di Dario Nardella, sindaco di Firenze, che arriva ad Arezzo in un pomeriggio in cui la città è assolutamente gremita di turisti. Beh, si capisce che il Natale comincia oggi ad Arezzo, 25 novembre, sabato pieno di persone, lungo il corso storico e tanta gente, quindi un bel segnale per questo Natale aretino. La città universale dai sindaci, un futuro per l'Italia e l'Europa, non è un libro che parla solo di Firenze, anzi parte proprio dal capoluogo toscano per poi allargare il ragionamento a tutte le città d'Europa. Io parlo di Firenze ma in realtà parlo di tutte le città d'Europa, infatti. Io ho fatto questa bellissima esperienza di presidente di Eurocity, che è l'associazione più grande d'Europa, a dei sindaci di città e racconto di tutte le città che ho conosciuto da vicino, da Parigi a Londra, da Varsavia a Milano, il periodo del Covid, le città che hanno sofferto tanto e così come tante altre sfide come quelle per la pace, perché poi le città sono anche luoghi di pace. Mentre gli stati si fanno le guerre, le città costruiscono punti e dialogano tra di loro. Ad accogliere Nardella, oltre al presidente e il curatore della Casa Museo di Ivan Bruschi, il primo cittadino di Arezzo e la consigliera regionale del PD, Lucia De Robertis. Come sapete Casa Bruschi è il centro di antiquariato, un museo importante da quando è nel perimetro di Banca Intesa, ma è una struttura molto dinamica, molto dinamica con eventi, laboratori didattici, culturali e quindi in questo senso si incrocia bene le città urbane e il loro futuro con questo libro. Alla fine, quando lui stesso disse, non mi ricordo in quale delle riunioni di EuroCities, che i governi parlano e i sindaci fanno, disse una grande verità, e cioè l'attività che un sindaco è necessariamente costretto a fare è quello che gli dà la credibilità politica ed è quello che i cittadini gli riconoscono.